ciao a tutti benvenuti su magis of lotus alla prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like di commentare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati allora in questa top 5 parliamo dei 5 deck più sottovalutati in questo momento in centurion allora i dati di centurion sono un po' indivaghi nel senso che è difficile trovarli ed essere precisi precisi però questi 5 deck ci sembra che siano non molto giocati date le nostre esperienze nei tornei grossi fatti negli ultimi mesi allora al quinto posto abbiamo messo ieri nakudro è un comandante umano quindi un tribale umano ma è un agro abbastanza intelligente con la curva devo dire neanche troppo bassa e ha tante creature che danno fastidio come possiamo vedere a ziloto dark confident drannit elite spellbinder esper sentine sono veramente tanti quindi una strategia di questo tipo una parte importante sono anche gli equipaggiamenti troviamo la school club shadow spirit amber cleave e devo dire che è un po' sottovalutato per la forza che ha per come la penso io i comandanti e me meno costano meglio è in commander centurion però c'è da dire che si possono fare anche delle delle eccezioni il rina kudro può essere anche una di queste allora a quarto posto troviamo sidis il comandante tribale per incantesimi è uscito in modo ornale su due e il mazzo è quasi tutto incantesimi quasi allora troviamo come carte importanti da da segnalarvi come sinergie importanti abbiamo utopia wild growth da mettere sulle terre poi dovremmo avere aspettate che lo trovo earthcraft che ci permette di stappare una terra base tappando una creatura che controlliamo ed in questo caso ci dovrebbe essere anche la combo con gli scogliattolini aspettate che ve la trovo eccola qua square nest ci permette praticamente di creare uno uno infiniti quindi questa è la combo del deck e principalmente è il modo credo è più facile per vincere in questo mazzo poi abbiamo altri modi alternativi abbiamo anche le creature senza problemi abbiamo il sigillo del trono vuoto e basta parte importante sicuramente tutore bianco che ci permette di tutorare un qualsiasi creatura o incantesimo o artefatto e metterla in cima al deck quindi molto molto importante questo deck secondo me è buono perché comandante rispetto a linea kudro costa solo due quindi potremmo castarlo più volte abbiamo anche qui tante carte che danno fastidio al nostro avversario incantesimi lock o comunque possono creare problemi e quindi sidis in campo ci può dare veramente tanto value perché abbiamo tanti 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 incantesimi e tanti a costo basso quindi ottima scelta anche sidis poi abbiamo satiri banana in questa che in realtà è gallia che è un rg agro e allora anche qui è un agro però meno stupido di quanto si possa pensare quindi non è a livello basico 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 per dirvi è non non per denigrare il deck perché anzi è però zurgo è molto più basico essendo mono rosso non avendo troppe carte che interagiscono con l'avversario questi invece ha più carte che fanno più cose quindi mi piace secondo me sottovalutato gallia non viene preso troppo spesso in considerazione ma in realtà secondo me è un deck con cui si possono fare molti molti risultati tornei classico mazza aggressivo creature più qualitative possibili e che sono tante creature sono veramente tante e poi abbiamo delle delle carte per finire la partita negli incantesimi degli instant possiamo segnalare la tarca command che da più in più una tutte le nostre creature rich rich se lo dimenticano sempre tutti però da anche rich e e poi fatta da nell'avversario oppure altri due effetti allora al secondo posto invece troviamo misch allora questo è molto 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 bello perché è un mazza base creatura combo quindi sulla sulla striscia di dei kick combo di modern o altri mazzi di quel tipo e anche questo è molto molto intelligente visto che ve l'ho citata anche questo mazzo gioca aircraft però la gioca di più per fare value perché anche questa utopia è quindi tappando le creature potessimo avere più mana perché abbiamo una terra incantata da da questi incantesimi e comunque le creature diventano tutti dei dei rampini perché possiamo stappare una creatura stappata che controlliamo per stappare una terra base quindi avremo tanto mano in più e questo è molto 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 bello e niente troviamo la combo classica di chi chi eccolo qua chi 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 con per esempio il felidar classico combo non avendo il blu non abbiamo sarca e i pestermite però abbiamo questa combo qua più dovremmo averne altre aspettate c'è l'angelo no non lo vedo boh non c'è l'angelo però comunque abbiamo un sacco di sinergia fra fra le creature e questo è un mazzo molto molto pericoloso da affrontare perché se ci tappiamo out e non abbiamo una risposta costo zero possiamo veramente morire da un momento all'altro quindi questo è veramente ottimo deck è un po costoso essendo tricolor però ottimo ottimo deck al primo posto troviamo the first sliver mazzo secondo me molto molto forte comandante è parecchio qualitativo a costo 5 abbiamo un 7 7 e che casca poi tutti gli altri sliver hanno cascata voi direte ma cosa serve che gli altri sliver abbiano cascata se il mazzo non è sliver e allora adesso andremo a vedere che qualche sliver c'è comunque lui secondo me fortissimo perché uno dei bug di nimitzet quello che è stato bannato a cinque colori era che secondo me ti faceva un value ma che ti faceva perdere tempo e purtroppo il tempo in centurion è veramente molto troppo importante devi fare qualcosa che impatti il board questo ha molte probabilità di farlo perché casca quindi se caschiamo una carta forte che fa qualcosa e impatta il board e ne abbiamo veramente tante tra le spell ce ne sono poche che non impattano il board quando entrano e la sinergia con i drop o 1 come vediamo il gerrider che da volare questo che permette di sacrificare gli sliver e fa scartare carta al nostro avversario e che se noi giochiamo uno sliver a costo 1 avendo il first sliver in campo caschiamo sicuramente ancestral vision inevitable betrayal o profane tutor che sono tre carte a costo 0 quindi abbiamo questo grossissimo vantaggio di poter fare una spell a costo 0 che ci fa ancestral o una spell che ci fa tutore demoniaco oppure una spell che ci fa corruption bravery in inglese corruzione quindi guardiamo l'opponente il mazzo dell'avversario e prendiamo una creatura la mettiamo in campo quindi molto molto forte il mazzo secondo me sottovalutato però vedo che adesso c'è un po più di interesse nell'ultimo periodo quindi ottimo siamo giunti a concludere questo video se volete lasciate un like iscrivetevi al canale commentate attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati ciao